Ancora l'Europa nel cuore del Papa che questa mattina ha aperto la celebrazione in Santa Marta richiamando il vecchio continente all'unità. Preghiamo oggi per l'Europa, perché l'Europa riesca a avere questa unità, questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell'Unione Europea. Solo restando uniti la pandemia potrà essere arginata, Francesco lo ripete con forza durante l'udienza generale. Nella cinquantesima giornata mondiale della Terra, dedicata proprio al Pontefice, nel quinto anniversario della Laudato Si, l'enciclica verde che ha dettato l'agenda per la tutela del pianeta nei prossimi decenni. Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili possiamo vincere le sfide globali. La cura della casa comune, la responsabilità dei singoli nella salvaguardia dell'ambiente, i temi affrontati dal Pontefice che ricorda, come immagine di Dio, siamo chiamati ad avere cura per tutte le creature, amore e compassione per i fratelli, soprattutto i più deboli. L'egoismo dell'uomo lo ha portato a depredare e inquinare la Terra, mettendo in gioco la stessa sopravvivenza della specie umana. Occorre ripristinare l'armonia tra uomo e ambiente, ritrovare il senso del sacro rispetto per il pianeta. Intendiamoci, essa non è un deposito di risorse da sfruttare. Contemplazione e azione, una conversione ecologica e un piano condiviso per scongiurare le minacce che gravano sulla Terra. L'appello infine per i prossimi appuntamenti sul clima e una mobilitazione che parta dal basso.